ciao a tutti questo non vuole essere un video tutorial ma bensì un video su come fare un upgrade una bicicletta senza spendere le cifre esagerate sulla bicicletta tra l'altro non di bassa gamma ho messo ho comprato innanzitutto prima monocorona della fan ditta americana 32 denti non guardate i pedali poi ho preso sunrise in acciaio che va da 10 a 12 velocità ne parlano molto bene di questo prodotto dopo di che cambiando cambiando guarnitura ho acquistato la catena shimano e nuovo pacco pignoni il nuovo pacco pignoni che andremo a montare con l'aiuto di pino dopodiché lo dovremo testare nei prossimi giorni montato tutto adesso facciamo un uscita di prova prime impressioni dopo 24 chilometri devo dire che il cambio sunrise lo trovo molto preciso nelle cambiate il fatto dell'acquisto qualità prezzo non ha paragoni l'unica cosa che non ho capito e cosa serve questa levetta rossa c'è un blocco vedremo di scoprire qualcosa in più ciao 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 ciao